Oggi prepariamo la gomma arabica Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Nuova ricettuzza sul canale Oggi prepariamo la gomma arabica Vi faccio vedere come si prepara questo addensante che serve per la preparazione di molti colori Acquerelli, gouache e tempere hanno una base di gomma arabica che li rende elastici e naturalmente belli densi E allora senza indugio clicca su iscriviti se non sei ancora iscritto Piggia sulla campanella per non perderti i futuri video creativi di Arte per Te e spostiamoci sul piano da lavoro per andare a vedere come si fa la gomma arabica Ed ecco gli ingredienti per preparare la nostra gomma arabica Della nipagina ne servirà la punta di un cucchiaino 100 ml di acqua demineralizzata Questa è 50 grammi di gomma arabica in polvere Si presenta così Questa verrà a costarvi sull'euro euro e 50 Iniziamo subito Versiamo all'interno di un contenitore la gomma arabica Tutta quanta Quindi potete fare questo passaggio alla fine o all'inizio Io per non dimenticarlo questa volta lo faccio subito Prendo della nipagina che è un antibatterico Vedete ne prendo proprio una micropunta e la metto dentro Ora verso all'interno anche la mia acqua E mescolo un attimo il tutto Faccio in modo che l'acqua prenda tutte le polveri A questo punto lascio decantare per tutta la notte Ponendo il tappo sopra il barattolo E lasciando semplicemente una fessurina aperta Così in modo che non entrino insetti Ma allo stesso tempo abbia una buona ossigenazione Ci vediamo domani mattina per concludere la ricetta Lì domani mattina la nostra gomma arabica si presenterà così Totalmente disciolta E con qualche bollicina in superficie È del tutto normale Adesso poniamola a bagnomaria su fonte di calore Quindi in un pentolino mettiamo dell'acqua Immergiamo la nostra gomma arabica Accendiamo la fonte di calore E attendiamo che il tutto vada in ebollizione Lasciamo bollire pochi secondi Dopodiché possiamo spegnere la fiamma Dopo un po' di bollore Io ho aspettato appena un minuto Stacco la fiamma E faccio raffreddare a bagnomaria Non appena l'acqua si è raffreddata Mescolo bene il tutto Filtro il composto Giusto per sicurezza Non ce ne sarebbe neanche bisogno Poi ripulisco il barattolo di preparazione E la riverserò poi successivamente qui Benissimo Siamo pronti per alloggiare definitivamente la nostra gomma arabica Bella filtrata, super pulita e pronta all'uso Questa vi durerà per anni Nel senso se la usate la userete subito e va bene Altrimenti potrete conservarla veramente per anni Io quella vecchia che sto sostituendo Ce l'avevo da una decina d'anni e vi ho detto tutto Bene, questa è la ricetta della gomma arabica E noi ci vediamo dopo che ho ancora qualcosina da dirvi Visto che è semplice avere una gomma arabica bella e pronta per l'utilizzo In commercio la trovi già pronta A un prezzo un pochettino più elevato rispetto al farsela da sé Sono parimenti di qualità e durano a lungo entrambe Sia quella homemade che quella acquistata L'unica differenza è che se ne devi fare un uso sporadico Magari ti conviene comprarne una boccetta Spendere un po' di più Ma utilizzarla per quel po' che devi fare Mentre se devi farci dei colori E noi faremo tanti colori con la gomma arabica Quindi ti sto suggerendo di fartela da te Vuoi mettere la soddisfazione di farsi i propri materiali da sé? È tutta un'altra cosa E allora prova anche tu a creare la tua gomma arabica E vedrai come funzionerà bene Puoi vedere come usarla nella preparazione degli acquerelli Ti lascia il link qua sotto E aspetta prossimamente una ricetta di un colore spettacolare Che faremo insieme proprio con questo materiale E allora non mi rimane che salutarti E darti appuntamento al prossimo video creativo E da oggi Arte per te lo trovi anche su TikTok E anche su Instagram Vi aspetto con tanti video e contenuti differenti da YouTube Naturalmente vi aspetto anche su Facebook E vi ricordo che a fine agosto Si apriranno di nuovo le iscrizioni per il corso di disegno Basta, ora vi saluto Da Ombretta e da Arte per te è tutto Alla prossima volta Ciao